Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle nuove scarpe Rebellelan Calibra HT, la nuova scarpa per terreno tecnico e skyrunning di casa a scarpa, di cui adesso vediamo insieme pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito da qualche caratteristica fornita dalla casa per queste Calibra HT. Per quanto riguarda la suola, troviamo una suola presa di proprietà a scarpa, in particolare la TRN01 con un tassello da 4 mm. Un'intersuola a media densità con un drop sempre di 4 mm, una chiusura boa col boa di modello LI2 e tutto per un peso di 310 grammi nella taglia 42 uomo. Adesso che abbiamo visto qualche caratteristica iniziamo con i pregi e difetti. Iniziamo come al solito dalla suola per queste Calibra HT. Come vi dicevo una suola presa, il modello TRN01, ovvero la stessa suola che avevamo sulle Rebellelan originali, quelle uscite qualche anno fa. Una suola che ha un grip veramente formidabile. Io soprattutto su roccia ci sono andato da Dio. Roccia asciutta, roccia bagnata, tiene che è una meraviglia. Davvero, se siete abituati a dover correre su tanta tanta roccia, questa scarpa sarà perfetta per voi. Di contro però, quello che è il fango lo subisce abbastanza. Fa fatica, non ha un tassello così alto, così ben pronunciato da riuscire a fare un po' di grip. Però, sarò sincero, non gliene facciamo neanche una colpa, perché per quanto riguarda il fango, nel caso c'è la sorella, la ST. Continuiamo, arriviamo a parlare dell'intersuola. Come vi dicevo, un drop di 4 mm e una schiuma in eva a media densità. L'eva a media densità, abbiamo imparato a conoscerla, è praticamente quell'intersuola che ha quell'ottimo bilanciamento tra ammortizzazione e reattività. È una scarpa che, secondo me, tende un pochino più alla reattività rispetto che all'amortizzazione, in questo caso, nel senso che ci si corre veramente molto velocemente. Cioè, con questa scarpa se andate anche a 4 km, non avrete nessun problema. La scarpa vi aiuterà a correre anche a tale velocità. Di contro però, magari, non la utilizzerei per farle le gare molto lunghe. Dopo lo vediamo, ma secondo me la distanza della maratona è un po', diciamo, la distanza massima che si potrebbe fare con questo tipo di scarpa. In compenso, però, nella parte posteriore, nel mezzo del tallone, ritroviamo anche un'intersuola a bassa densità che ci dà comunque un po' di cushioning per il momento in cui andiamo proprio a sbattere di tallone nei tratti più tecnici. Continuiamo, passiamo alla parte superiore della tomaia. Innanzitutto, il puntale, beh, super rigido. Per una scarpa pensata per correre su roccia non potevamo aspettarci altro. Ci protegge veramente bene nel caso dovessimo picchiare la punta contro rocce o radici. Quindi, da questo punto di vista, molto bene. Troviamo il classico fascione tipico della famiglia Rebel Run che corre da punta a tacco che va sia a proteggerci da eventuali urti laterali sia a proteggere la tomaia da eventuali strappi. Quindi, veramente molto molto bene. E per quanto riguarda la tomaia mi sono trovato bene anche se non è super traspirabile. Diciamo che sicuramente la traspirabilità non è il punto di forza di queste calibra ma non è nemmeno il punto di debolezza. Diciamo, è abbastanza nella norma. Non aspettatevi una scarpa super traspirante. Però, devo dire, comunque è una tomaia bella dura, bella rinforzata. Una tomaia che difficilmente si strapperà nel tempo. Quindi, da questo punto di vista, molto molto bene. Continuiamo. Passiamo a parlare del tallone. Qui troviamo un tallone abbastanza rigido. Come dicevo, con l'inserto in EVA a bassa densità per aiutarci un po' nel momento in cui andiamo su tratti tecnici e appoggiamo di tallone. Devo dire, però, che tra intersuola e tallone questa qua risulta essere una scarpa veramente molto molto stabile. Una scarpa con quale possiamo lanciarci giù anche dalle discese più tecniche senza aver paura di dover prendere una storta. Quindi, da questo punto di vista, molto molto bene. Per quanto riguarda il collare è mediamente imbottito diciamo, tipico della famiglia Ribelle Run come abbiamo visto da altre parti. Tutto, diciamo, abbastanza nella norma. Quello che cambia, però, rispetto alla Ribelle Run originale è naturalmente la chiusura. Qui troviamo una chiusura con il sistema Sock Fit per quanto riguarda la linguetta e devo dire che svolge veramente un ottimo lavoro. E poi troviamo il BOA modello LI2 che non è altro quel BOA che possiamo stringere girandolo in senso orario e andare ad aprirlo girandolo in senso anti-orario. Quindi, diciamo, un BOA sicuramente molto evoluto che fa sì che non riusciamo a comunque stringere molto bene la scarpa perché insieme al BOA c'è anche il sistema VRAP 360 di scarpa che è, secondo me, il miglior sistema che ho mai provato per quanto riguarda delle scarpe col BOA che riesce a far chiudere bene sia il collo del piede sia anche l'avampiede. Per quanto riguarda la soletta qui all'interno troviamo una classica soletta di scarpa io mi ci sono trovato molto bene per il resto, come con le altre solette provate sempre di scarpa si può togliere ma io andrei avanti tranquillamente a utilizzare quella data in dotazione. Per quanto riguarda invece la grandezza dell'avampiede qui troviamo una scarpa abbastanza stretta non strettissimissima come si potrebbe immaginare magari su una scarpa di questo tipo però fate attenzione perché non c'è quel millimetro in più che può aiutare una scarpa che tendenzialmente magari avrebbe senso se avete un avampiede abbastanza grande prendere mezzo numero solo addirittura un numero in più dipende un attimo che tipo di calzata desiderate però sì, non è sicuramente una scarpa larga dunque, a chi consigliere queste ribelle rancalibra HT? Diciamo un atleta mediamente evoluto un atleta che è già abituato ad andare su roccia un atleta che fa sgare di sky running anche belle intense un atleta soprattutto che riesce a portare una scarpa anche così reattiva cioè un atleta che sa correre a 4 km e che riesce a sfruttare tutta questa reattività la sconsiglierei un po' per chi invece magari cammina tanto per chi cerca una scarpa magari un pochino più ammortizzata perché non è questo il caso e infine per quanto riguarda le distanze beh, diciamo che come vi accennavo prima non andrei oltre la distanza della maratona in quel caso magari ci sarebbe bisogno di un qualcosa di un pochino più ammortizzato dato ciò arriviamo alle conclusioni per queste ribelle rancalibra HT vengono vendute da scarpa a 189 euro sul loro sito online si trova a qualcosina meno ve le consiglio sì ve le consiglio soprattutto se state cercando una scarpa con il quale correre su roccia perché veramente ha un grip fenomenale ve le consiglio se volete fare qualche gara di sky running sono delle scarpe con cui io mi ci sono trovato veramente veramente bene un altro diciamo pezzo forte di scarpa ormai ne sta sfornando veramente tanti però sì è una scarpa che mi ha convinto parecchio e detto ciò ragazzi io nella speranza sia stato esauriente e sostivo anche per questo video vi ringrazio per l'ho guardato e noi ci vediamo al prossimo ciao